Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo. L'orologio che andremo a sfrucugliare oggi è il Tissot PR516 cronografo. PR516 è una famiglia di orologi che nasce negli anni 60, naturalmente da Tissot, e che poi prosegue per tutti i decenni successivi. Se voi andate a sfrucugliare nel vintage troverete tutta una serie di orologi denominati PR516 dalle più disparate fogge, ed è solo tempo ai cronografi con gli stilemi degli anni 60, fine anni 60, 70, 80, ce n'è per tutti i gusti. È veramente una di quelle famiglie che è durata nel tempo, anche fino a recentemente, anche a orologio al quarzo. E negli anni 70, a metà degli anni 70, Tissot introdusse la versione cronografo, il PR516 cronografo, che oggi va a riprendere pedissequamente. Si tratta di una rivisitazione, di una reinterpretazione, però particolarmente fedele all'originale degli anni 70. Vi ricordo che PR sta per particolarmente robusto in italiano, sarebbe in francese, ma lascio a voi la pronuncia in francese di particolarmente robusto. Io non mi azzardo perché diventerei veramente una macchietta, come si suol dire. L'orologio mi è subito piaciuto, appena è stato presentato da Tissot, stiamo parlando di un mese fa, poco più di un mese fa, nemmeno un mese fa, parà con si con si pa. E non appena l'amico Giacomo della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio l'ha avuto a disposizione, l'ho preso per portarlo a fare una recensione sul canale. Mi piace, è un bello orologio e ritengo abbia le caratteristiche tali per poter diventare un best buy tra i cronografi, non solo di Tissot, anche fuori da Tissot. Chiaramente devo anche ricordarvi il quinto watch meeting, ossia il quinto raduno del canale, sempre alla gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio. Ci incontreremo il 12 maggio, domenica 12 maggio, per un incontro tra appassionati. Nella zona antistante della gioielleria, zona pedonale, lì dove possiamo poi discorrere, come gli altri anni praticamente, ci saranno poi anche ospiti di altri casi orologiere, si può entrare nel negozio e provare gli orologi, quello che si vuole. Insomma, a ruota libera, un pomeriggio tutti assieme. Vi aspetto domenica 12 maggio a Viareggio, ore 15. Detto questo, adesso possiamo anche... Ah no, c'è il mio orologio del giorno. Rolex Explorer da 39 mm, è quadrante nero opaco, portabilità sottile, qualità, c'è tutto. In questo orologio c'è tutto, un vero everyday watch. Basta avere il coraggio di indossarlo everyday. Poi non dire, perché siccome è un Rolex, allora lo lascio da parte e non lo uso. E vanno usati, gli orologi vanno usati. Adesso, bando ai discorsoni, giriamo la camera, diamo un'occhiata al PR511 cronografo e poi ci troviamo qui, come al solito, per le considerazioni finali. Vediamo nel dettaglio quali misurazioni sono state rilevate sul campo. Diametro cassa 40.5, spessore 13.9 mm, lag to lag 49.1 mm e interasseanza da 20 mm. Numeri che definiscono quelle che io definirei dimensioni ottimali. Nel momento in cui si ha a che fare con un cronografo che presenta uno spessore sotto la soglia dei 14 mm, la si può considerare una piccola vittoria. È sempre difficile riuscire a trovare un crono dal profilo non esagerato e in questo caso ci siamo riusciti. Dall'altro lato si può osservare come la maggior parte dello spessore ricada sul lato cassa, andando a dividenziare una certa presenza. In fin dei conti si tratta di un cronografo sportivo che presenta una impermeabilità di 100 metri ed è naturale che voglia apparire solido e meccanicamente rassicurante al polso. Solidità che si può riscontrare in quasi tutti i dettagli della cassa. Il profilo è semplicemente lineare, senza curvature di sorta. Una silhouette virile che ha lo scopo di ridurre al minimo essenziale le superfici esposte agli urti. Allo stesso modo, il lato opposto mette in luce la scelta di realizzare i pulsanti a sagoma cilindrica. Questi vengono in minima parte inglobati nella cassa in modo da poter opporre una certa resistenza agli urti laterali, cosa che non si sarebbe potuta ottenere, ad esempio, con dei pulsanti a fungo. A confermare lo spirito sportivo c'è poi tutta la lavorazione superficiale della cassa, che presenta una uniforme satinatura sia laterale che superiore, un aspetto generale opaco che sarà sicuramente apprezzato dai più. Non rinuncia però a qualche tocco di classe, che troviamo in quella smussatura lucida finalizzata a separare le superfici ortogonali in prossimità delle anse. Un classico. In linea generale si tratta di un design che riprende pedissequamente quello del suo predecessore degli anni 70. Lo si evince dalla forma dello scasso che accoglie i finali del bracciale, dritti a 90 gradi, come le casse degli orologi di un tempo. Un mix di sportività ed aspetto retro, che però mette in evidenza come già negli anni 70 Tissot fosse avanti a livello di design. Questo orologio potrebbe nascere così oggi, senza antenati e lo troveremo al passo con i tempi. Se poi ruotiamo l'orologio possiamo notare una particolarità che mi ha colpito, ossia come siano riusciti a realizzare un fondello trasparente minimizzando l'anello di acciaio che lo circonda. In molti orologi troviamo un oblò al centro circondato da un'ampia superficie, il famoso effetto ciambella. Qui, nonostante si tratti di una cassa dal diametro consistente, si è riusciti a minimizzare quell'effetto. Anzi, a parer mio si tratta proprio di una piacevole visuale. E non è neppure ascrivibile al calibro incassato, si tratta infatti del classico movimento di derivazione ETA 7753. Ci sono alcune differenze però. Questo a 0.5.291 è a carica manuale e vede quindi la rimozione del rotore e del ponte dedicato alla carica automatica. Qui viene sostituito da un unico ponte strutturale che appare in primo piano. Altre migliorie apportate sono il bilanciere a regolazione inerziale, la spirale in Nivacron completamente a magnetica e il sistema anti-urto Nivashock. Il tutto è completato da una nuova molla di carica che provvede alle 68 ore di riserva di carica. Un calibro che promette una precisione di marcia pari a più 5 e meno 5 secondi al giorno. Ma torniamo al lato A e la prima cosa da osservare è la lunetta. Realizzata in acciaio e ricoperta da un vetro minerale trattato, la superficie è così contenuta che anche se si dovesse graffiare risulterà ben poco visibile. L'importante è che venga protetto ciò che appare sotto, che altrimenti nel tempo potrebbe scolorire e deteriorarsi. Si tratta infatti di due scale distinte. La parte nera prevede una scala tachimetrica, mentre la parte bianca una scala pulsometrica. Non allarmatevi se vedrete la scala bianca non partire dallo zero preciso. È un effetto di disassamento voluto per consentire al 60 di essere incluso nella scala tachimetrica. Direi che è proprio la lunetta bicolore a caratterizzare fortemente l'aspetto generale. Personalmente la trovo affascinante, soprattutto perché appare con un blocco unico, con quella superficie verticale nera che delimita chiaramente i confini tra cassa in acciaio e lunetta stessa. Insomma, per me è uno dei pregi estetici di questo orologio. È invece in zaffero il trasparente che sovrasta il quadrante. Si eleva leggermente dalla lunetta per poi proseguire piatto verso il centro. Questo contribuisce a rendere chiaro ciò che appare al di sotto ed è palese che la leggibilità, per essere un granografo, è molto buona. Il primo dettaglio da sottolineare è che le sfere deputate a segnare l'orario sono bianche, sfera dei secondi continui compresa, mentre le tre lancette della parte cronografica sono arancioni. In questo modo si tengono separate le due differenti funzioni e al colpo d'occhio si ottiene una maggiore razionalità. In secondo luogo, i primi cinque minuti del contatore minuti sono marcati in celeste. Questo per segnare il tempo mancante alla partenza di una gara automobilistica o anche di una regata. D'altronde, i cento metri di impermeabilità gli permettono anche di salire su una barca senza problemi. Continuando poi nell'esplorazione, notiamo anche una curiosa differenza tra le due sfere principali. Sono entrambe rettangolari, ma quella dei minuti presenta un appendice che la porta ad essere definita come A-siringa, mentre quella delle ore ne è priva. Tutto questo si trova al di sopra di un quadrante nero opaco che assorbe completamente la luce e mette in risalto la lucentezza degli anelli che contornano i sottocontatori. Realizzati a cerchi concentrici metallici, riescono a definire con precisione il posizionamento dei tre compacts. Risulta palese che ognuno degli elementi sopralencati è perfettamente distinguibile in qualsiasi situazione, conferendo al quadrante l'etichetta di ben leggibile. Allontanandoci un poco, si può infine confermare la sportività di questo cronografo sia gli accostamenti cromatici che alcuni dettagli, come 5 minuti di partenza o la scala tachimetrica, non lasciano dubbi. Così come non lascia dubbi la luminescenza che sorprendentemente risulta presente anche sulla lunetta, facendoci scoprire che il bianco è frutto della pigmentazione luminescente. Non so quanto possa essere utile, ma tant'è, un bel effetto scenico. Per quanto riguarda il bracciale, siamo nei canoni qualitativi del marchio. Un design che non spicca per originalità, ma che appare ben realizzato. Spessore consono allo stile e finitura superficiale opaca. Una spazzolatura generale che troviamo su ogni singola superficie, anche sulla chiusura. Non vi sono punti lucidi, a conferma del fine ultimo dell'orologio che vuole apparire solido ed utilizzabile, piuttosto che lezioso e luccicante. La regolazione fine è effettuabile grazie ai tre forellini sul lato clasp. Corrispondono alla lunghezza di una maglia ed è quindi possibile trovare la giusta misura con una tolleranza pari ad un terzo di maglia. Da segnalare che sono presenti le spring bars a sgancio rapido, una funzionalità sempre più presente sugli orologi di qualsiasi fascia di prezzo. Possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali. Cosa dire di questo PR516 cronografo? Mi verrebbe quasi da dire che si tratta del miglior cronografo sotto i 2.000 euro. 1.975 euro. Una volta si sarebbe potuto dire sotto i 1.500, sotto i 1.000, adesso niente. Sotto i 2.000 c'è ben poco, cioè c'è tanto. Però di cronografi si rischia di andare un pochino sugli schicci del ponte, come si suol dire. Mi azzardo dirlo, non lo dico. Secondo me è uno dei migliori. Dai, non è il migliore, è uno dei migliori. Sicuramente in casa, ti so, è il migliore. Secondo me batte alla grande il PRX, il PRX cronografo, che è un pochino più chunky, più presente, più spesso, più ingombrante, cassa con bracciale integrato, che mostra più presenza al polso. Questo qua, invece, è particolarmente sottile per essere un cronografo. Mi ha sorpreso moltissimo il lato B, con questo vetro che non fa effetto ciambella. Cioè, è veramente una trovata riuscita. Infatti, pensavo non fosse possibile, perché il calibro è sempre quello, il 77-53, e invece qua ci sono riusciti. Poi altri punti, punti positivi, praticamente sono quasi tutti punti positivi. L'aspetto estetico, a me piace moltissimo. Una volta che vi piace, siamo a posto. Ecco, punti negativi, quali possono essere? Non ce n'è di punti negativi. Quali possono essere punti negativi? Il fatto che la luminescenza sulla lunetta sia un pochino così scenografica, perché in realtà al buio è illuminata la lunetta, i numeri sulla lunetta, ma le sfere cronografiche non sono illuminate, quindi al buio non si può utilizzare. Anche perché poi sono piccolissimi i numeri, al buio non si leggerebbe uguale. Diciamo che è uno di quegli effetti scenografici che poi sei con gli amici, guarda un po', il mio si illumina anche al buio. Tutto lì. Che poi nella realtà io non riesco a vederla nemmeno così alla luce del giorno, i numeri sulla lunetta, diciamo la verità, ci vorrebbero degli occhiali extra fast. Altri punti deboli non ne ho trovati, non ce ne sono. Direi che è promosso a pieni voti. Alla leggibilità c'è, il bracciale è un po' anonimo, ma insomma come struttura, ma come si può vedere sul loro sito web, viene offerto con tutta una serie di cinturini che ha scelta. C'è da dire che con questa forma della ansa, dei finali, cioè a 90 gradi così rettangolare, potrebbe diventare uno strap monster, cioè uno di quegli orologi che indossati con un cinturino qualsiasi diventa un top. Perché? Perché il cinturino va a incastrarsi perfettamente nel lanza rettangolare quadrata, non ha bisogno di accompagnare la cassa tonda e secondo me con un cinturino di cuoio vintage raggiunge il suo massimo. Non l'avevano provato, non ho avuto voglia di provarlo, ma sarebbe da fare questa cosa. Niente. Poi il resto, le finiture l'avete visto, il calibro è buono, è il 77-53 migliorato, quindi c'è poco da dire. Su questi livelli non è che si può andare sui calibri di supermanifattura, anche se questi volendo sono delle modifiche che sono effettuate solamente per le case del gruppo Swatch, no? Non è che te questo calibro qua manuale, così, con la spirale Niva, lo trovi in altri orologi. No. E per questo prezzo direi che è veramente qualcosa, un valore aggiunto, diciamo così. Per me è promosso, ragazzi. Poi, che è brutto non lo potete dire, che è brutto non lo potete dire, che magari non vi piace tisso, che non volete spendere 2.000 euro, tutto quello che volete, ma che è brutto questo orologio, proprio no. Boh, mi sembra di aver detto tutto, eh. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua, spero vi sia piaciuto l'orologio, il video, il presentatore, e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love. Ciao. No. 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 Grazie a tutti.